È stata approvata non senza preoccupazioni questa mattina dalla conferenza sanitaria in provincia la ripartizione del Fondo per la non autosufficienza. Si tratta di più di 31 milioni di euro che dovranno cercare di dare risposta a disabili anziani. Le risorse in un anno sono calate dell'1,4% e dunque i sindaci dovranno operare scelte di taglio per recuperare la cifra perduta, pari a 445 mila euro. Al distretto di Ponente sono stati assegnati più di 7 milioni di euro, a quello di Levante quasi 11, a quello della città 11 milioni. I sindaci hanno chiesto maggior riequilibrio nelle strutture per anziani per l'assegnazione dei posti convenzionati. Tra i sacrifici più pesanti inoltre vi è il fatto che dal 1 settembre il servizio di assistenza domiciliare per i malati di SLA sarà a carico delle famiglie. Si prevedono tagli complessivi che riguardano tutti i tre distretti, Piacenza, Levante e Ponente, dell'1,4%. Diciamo che in ufficio di presidenza si è trovato questo accordo, oggi ci apprestiamo ad affrontare una stagione, il 2015, con risorse inferiori rispetto a quelle del scorso anno. Il nostro compito è quello di cercare di garantire comunque al massimo i livelli di servizi nonostante la diminuzione di risorse.